Mancano ormai pochi giorni alla scadenza parlamentare più importante di tutto l'anno, la discussione e l'approvazione della legge di bilancio per il 2021. La settimana scorsa il Consiglio dei Ministri ha licenziato la bozza del provvedimento, che per la scuola e l'università prevede 6 miliardi, un miliardo e mezzo per assumere 25 mila insegnanti di sostegno, altrettanto per l'edilizia scolastica 500 milioni a sostegno del diritto allo studio, 500 milioni di euro per il settore universitario, ma ci sono anche 2 miliardi e mezzo per edilizia universitaria e progetti di ricerca. Per la verità va detto che con il cosiddetto decreto ristori approvato dal Consiglio dei Ministri domenica scorsa sono stati stanziati 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata in modo da consentire l'acquisto di dispositivi portatili e strumenti per le connessioni. Il Ministero ha già chiarito che si tratta di fondi che verranno girati alle scuole nel giro di pochi giorni e saranno destinati all'acquisto di strumenti informatici, non meno di 200 mila secondo i calcoli di Viale Trastevere, da assegnare in comodato d'uso agli studenti meno abbienti. Per il momento non ci sono però buone notizie per quanto riguarda i contratti pubblici. Lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio non va al di là di 400 milioni, che dovrebbero servire però non solo per la scuola ma anche per tutti gli altri comparti. Se le risorse non saranno aumentate e anche parecchio, la firma dei contratti nel corso del 2021 risulterà del tutto impossibile. Con 400 milioni infatti si potrà a malapena garantire anche per l'anno prossimo l'erogazione del cosiddetto elemento perequativo al personale con stipendi più bassi. Nel 2018, in occasione dell'ultima tornata contrattuale, per riconoscere a tutto il personale l'aumento minimo di 85 euro promesso dal precedente governo, i sindacati accettarono che agli stipendi più bassi venisse attribuito un aumento per il solo 2018. Da quel momento le risorse impegnate con le successive due leggi di bilancio per i contratti pubblici sono servite proprio a conservare tale aumento. La conclusione è che per ora di soldi da destinare a nuovi incrementi stipendiali ce ne sono davvero molto pochi. Vedremo se nel corso dell'esame parlamentare cambierà qualcosa. Ma di sicuro gli stipendi europei promessi dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale non ci saranno. Così come non ci sarà neppure l'aumento a tre cifre garantito dal Ministro Bussetti e ribadito persino da una intesa siglata fra Conte e i sindacati nell'aprile del 2019. Su questo tema ovviamente continueremo a tenervi informati, vi racconteremo come si svilupperà al dibattito, alla discussione sulla legge di bilancio per il 2021, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni e noi ne daremo conto come al solito. Grazie a tutti.